Allora, siamo qui con Marco Raparo, centrocampista della Re Canatese. Marco, che emozione è a tornare a Riviera delle Palme da ex? Sicuramente un'emozione unica, perché come tutti sanno, quando ritorni da ex o quando giochi qui a Riviera delle Palme con questa maglia, il ricordo rimane sempre impresso e stampato in mente. Quindi è stata sicuramente un'emozione unica e poi è andata bene che sono riuscito a fare gol e allo stesso tempo abbiamo vinto. Meglio di così non poteva capitare. Dispiace per la San Mettese che purtroppo viene da un periodo un po' difficile, ma sicuramente troverà la retta via il prima possibile. Ci racconti il gol? Come è stato? Il gol è una buona azione. Appena ho visto che Alex Baffo mi scaricava la palla, ci ho provato e la palla è andata in rete. Quindi credo che al di fuori di tutto è stata, come ho detto, una partita che abbiamo meritato. Il risultato penso sia giusto. Grazie Marco e complimenti. Grazie. Grazie.